Il loro segretario, così anche loro si aspettano che seguano la squadra veramente in tanti. Ma non mi ricordo che qualche anno fa, sempre proprio qui a Parlo, un spareggio col Bresciallo, vennero dietro in 6.000. Quindi ci aspettiamo una bella risposta. Forse ce ne sarebbero stati di più se avessimo giocato il 29, perché sarebbe stata anche per loro la partita decisiva, mentre così loro poi giocheranno la successiva in casa col pubblico, quindi magari qualcuno rinuncia la trasferta e aspetta la partita in casa. Magari arriverà qualcuno anche da morte.